Guarda mamma, guarda mamma, hai fatto la cacca? Non è vero, non hai fatto la cacca, non hai fatto la cacca? Perché ti copri? Dai, allora, il naso, naso, no, fermo, 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 guarda Naso, tocca il naso, tocca il naso, che cosa? Che cosa succede? Cosa succede? Guarda mamma, guarda mamma Mi guardi, vuoi andare dove? Dove vuoi andare? In bagno? Vuoi andare in bagno? Vuoi andare in bagno? No, no Vuoi andare in cucina? Vuoi andare in cucina? Ok, guardami però, vuoi andare in cucina? Ok, mi guardi Vuoi andare in cucina? Ok, andiamo, andiamo, bravo